Godetevi le stupende caratteristiche di questa bellissima casa presentata da Berry Plant. Si presenta una grande opportunità perché questa grandiosa casa diventi tua. Comprende una cucina ben arredata con tutto ciò che il cuoco desidera. Ampie camere da letto che vi farà sentire comodi e rilassati. Grazie per tutti. Come faccia questa proprietà? soddisferà ogni vostra esigenza. Non aspettate, chiamate la gente oggi!